19 era saltato il cuore stavo allenando fulmine un cavallo di ottimo livello all'interno della propria generazione eravamo in pista dritta facevo a lunghi ripetuti per testare la condizione del cavallo che era davvero al top in quel periodo mostrava di poter tornare a vincere a metà a lungo fulmine iniziò a muovere le zampe più velocemente troppo velocemente come non aveva mai fatto tempo un centinaio di metri e fulmine e come esploso si è buttato fuori della pista giù nel fosso e dio con lui sono precipitato a terra ho visto il mio ginocchio andare da una parte e il piede dall'altra mi era saltata la gamba mentre a fulmine era saltato il cuore per un aneurisma commento quando il cavallo è alle soglie delle incarnazioni umane come sono alcuni cavalli che non a caso lavorano con l'uomo possono avere un'evoluzione che già gli permette una donazione estrema al padrone che l'animale vede come dio l'animale vede come dio l'animale vede come dio